Il derby inaugurale della nuova stagione della Bocasette Colli, che cosa vuole dire Emanuele? Il derby della tradizione, apriamo con un derby, una stagione importante in cui i campionati TEC hanno sforato le 30 squadre, 33 per la precisione, 20 di calcio a 7, 13 di calcio a 5, per noi era un appuntamento importante perché sono le nostre due squadre da cui è nato tutto e quindi inaugurare il campionato con questo derby amichevole è stato bello, peraltro è stato molto corretto, siamo tutti amici, siamo una grande famiglia, due squadre ma una grande famiglia. Abbiamo visto che è un portiere che carica la squadra anche nei momenti di difficoltà, che cosa vuole dire questo tipo di carica? Diciamo che quando un derby è sentito i veri portieri vengono fuori, quindi ho mantenuto l'imbattibilità per 55 minuti, record personale, record personale di col subiti, uno solo, quindi vorrei ricordare A. a Ciro Cavallaro, che se cercava un portiere l'ha trovato, B. a Ioris Verrucci, che adesso sono fatti i suoi perché tutto l'anno lo massacro, C. a Roberto De Rossi, a Patrick Di Lupidio, che d'altronde quando uno è un grande portiere ha la classe cristallina e vola, non si può che volare. Volevo fare l'ultima domanda, oltre al portiere so che lei fa anche il calciatore, quanti gol vuole fare? Come già detto su Facebook, quest'anno segnerò 10 reti, giocherò con la squadra degli arbitri, con i 7 re, nel calcio a 7 lascio spazio ai ragazzi perché altrimenti dopo 5 giornate già avrei raggiunto il mio obiettivo, quindi diciamo che diamo un po' di spazio a tutti quanti, quindi 10 reti e come dico sempre anche al mio capitano Cavallaro, io sono pronto a volare!